Sì, dobbiamo chiudere qua con l'ultima parola all'amico dell'Università. Sono veloce per gli aspirantici asti, per i giovani aspirantici asti. Prima di tutto, copiate e copiate. Cioè, se uno ama un film, due film, allora uno dovresti vederli, 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 vederli e poi provare a scriverli. C'è tipo i movimenti di macchina sulla memoria e poi confrontare quello che avete ricordato e com'è il film. E' come, deve essere come un ladro, quindi fronte alla banca che sta per rubare la banca e vuole studiare come si fa a rubare. Quindi il ladro, facendo così, poi dopo la vostra personalità dimenticherà tutto questo e si realizzerà. Io ti consiglio questo. Se trovi i soldi. Grazie. Grazie.